ok adesso facciamo una discesina che da un po che non la faccio in discesa l'avevo fatta in salita vediamo com'è qui anche qui il terreno è molto scivoloso bisogna stare attenti perché le pietre sono come saponette ma ci rilassiamo un attimino ci rilassiamo e andiamo giù in relax guarda qui che pietre sono come saponette insomma non si ritengono in piedi queste stesse cazzo di pietre vediamo qua cosa viene fuori bisogna stare attenti che ogni tanto viene anche su gente a piedi qua è molto scivoloso bisogna riuscire a curare un po' sono di piante bisogna stare attenti guardate 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 ma dai guardate dai pensavo peggio x Sì, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Qui fai il trial in mezzo alle piante, proprio la gincana in mezzo alle piante. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. 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 GoPro, arresta video.